Durante la settimana nazionale della bonifica, in collaborazione con ambi i consorzi di bonifica, inauguriamo un intervento esemplare che riguarda il territorio collinare montano. Sono circa un milione e mezzo le risorse che il consorzio di bonifica destina al territorio montano, il territorio più vasto a livello regionale per quanto riguarda la montagna. Si tratta di interventi capillari a livello territoriale, quindi piccoli interventi che si vanno a inserire su tutto il territorio produttivo del nostro appennino. In particolar modo movimenti franosi, regimazione delle acque, andare ad intervenire quando le strade vengono interrotte, quindi riaprire la viabilità. Negli ultimi tempi, soprattutto nell'autunno del 2023 ma anche a inizio del 2024, sono stati diversi gli interventi di somma urgenza e quindi oltre alle attività ordinarie, il nostro ufficio di montagna si è dedicato anche alle attività straordinarie in emergenza. In particolare sono stati circa 350 mila euro che si vanno a sommare a un milione e mezzo di euro a bilancio 2024 e quindi le somme destinate al territorio montano cominciano a diventare veramente importanti. Oggi siamo a Bazzano, una frazione del comune di Neviano degli Arduini e riapriamo finalmente una strada che era stata interrotta da un decennio e quindi un intervento significativo non solo dal punto di vista tecnico e della viabilità di questo territorio ma che è anche un riscontro sociale legato alla vita delle famiglie di Bazzano e soprattutto alle aziende che vi lavorano. Quindi il consorzio cerca di essere presente a supporto dei comuni montani per cercare di dare una soluzione al grande problema che la montagna ha soprattutto per quelli che sono il tema della prossimità. In questo caso agevoliamo la vita di queste famiglie e delle aziende agricole del territorio. L'intervento di sistemazione del movimento franoso della strada comunale a Monte Rosso di Bazzano riguarda un tratto di strada interrotto da movimento franoso di circa 30 metri ma che ha interrotto anche la viabilità, ma ha interrotto anche il collegamento fra le diverse abitazioni e le attività della zona. In generale si parla della reggimentazione delle acque di pendio così pericolosa per l'attivarsi di frane e in particolare invece si parla della realizzazione di drenaggi in trincea, di ripristini della viabilità stradale, del riprofilarsi dei pendii e anche del ripristino della rete scolante. Ringraziamo la Bonifica Parmense che ha creduto in questa risistemazione di questo tratto di strada. C'era stata una frana almeno dieci anni fa e qui il bosco si era ripreso un po' tutta questa parte di Vallati. Questa strada è molto importante perché unisce alcuni centri qua di Bazzano e poi mette insieme alcune attività agricole e produttive molto importanti e quindi avendo una strada di collegamento serve proprio per aiutare a avere più viabilità fruibile. E comunque nella nostra ottica, se posso aggiungere, direi che è molto importante quello che è la cura dell'ambiente. Quindi noi quando abbiamo chiesto questo recupero abbiamo pensato proprio a una cura dell'ambiente che è importantissima e dobbiamo continuare a lottare per far sì che tutte queste criticità che si sono avute per un territorio fragile si possano un po' alla volta colmare e ritornare a avere quelle viabilità che una volta utilizzavano così tanto ma c'è un significato. È una cosa importante perché se c'erano ed erano utilizzate devono essere di nuovo ripristinate.